pronti per uno dei momenti più attesi dell'anno iphone 16 pro con me voglio parlarvi subito di una cosa incredibile pazzesca questo nuovo tasto che è stato aggiunto lo vedete dedicato alla fotocamera io voglio subito farvi vedere qual è la cosa più incredibile che possiate fare con esatto disattivarlo perché apple ragazzi per due anni di fila fa questa mattata incredibile che non è nelle corde dell'azienda di solito è un po più conservativa di aggiungere due tasti nuovi sulla scocca due tasti fisici una cosa veramente assurda che altri brand di base non fanno tra l'altro e toppa per due volte lo vogliamo dire tolto questo sassonino dalla scarpa andiamo a vedere quali sono le novità di questo 16 pro andiamo a vedercele con il solito esperienziale su strada e poi ci vediamo qui con la ciccia ovvero l'analisi dei file sull'iPhone e io vado diretto con questo video a fare il confronto con il 14 ultra potrei dedicargli un video a parte potrei allungare un po il brodo fare più view ma non mi va sinceramente quindi io vi porto adesso la prova su strada di iphone e poi un sacco di scatti di comparativa con il 14 ultra e ci guardiamo a casa rapida vista dell'interfaccia è sempre da solito quindi non ci perderò molto tempo semplice intuitiva non c'è la modalità pro lo sappiamo non proprio bellissimo il fatto che ancora dobbiamo andare a smanettare nel menu fotocamera dentro alle impostazioni per settare tutte le cose che secondo me sono molto importanti e vanno attivate i vari toggle e le varie funzioni rapide nell'interfaccia della fotocamera ma la cosa bella di iphone è che una volta fatto è veramente difficilissimo non avere tutto a portata di mano e dover ritornare a smanettare con le impostazioni mi piace anche la continuità che abbiamo lo sapete insulto sempre gli android su questo sul fatto che se selezioni il raw max e quindi la massima risoluzione possibile lui sulle lenti che supportano i 48 megapixel rimane ovviamente in raw max sulla 5 per che ad esempio non li sopporta passa automaticamente avremo uno scatto a 12 megapixel in raw ma quando torno sulla 1 sono sempre a 48 mentre sugli android spesso anzi sempre quando passa una camera 12 si disattiva l'opzione da 50 quando ritorno sulle precedenti scatto a 12 e non a 50 devo andare a riattivarla dalle impostazioni questo è scomodissimo quindi grande continuità e questo mi permette di lavorare diciamo senza pensieri tra virgolette una volta che ho impostato la mia camera vado e non ci penso più velocissimo il passaggio tra le camere come sempre accesso rapido alla fotocamera abbiamo tre possibilità dalla schermata di blocco tenere premuto e trascinare ma non è proprio il massimo non mi ha mai fatto impazzire il tasto azione dell'anno scorso se impostato su fotocamera tenendolo premuto apre rapidamente la fotocamera devo dire oppure il nuovo tasto dedicato alla fotocamera io ho messo un doppio clic si può impostare anche a singolo clic ma secondo me è un po rischioso per quando si ha il telefono in tasca quindi doppio clic e lui va ad aprire la fotocamera la pecca che potrebbe sembrare una piccolezza una stupidata in realtà per me abbastanza una rottura è che quando vado ad aprire rapidamente la fotocamera riparto sempre dalla lente principale quindi se sto scattando con il teleobiettivo o con l'ultra grande angolare sto scattando blocco un attimo il telefono poi vedo uno scenario e voglio riscattare rapidamente riparto dalla 1x per alcuni può essere una stupidata per altri no vedete voi c'è chi fa meglio sotto questo punto di vista sappiamo mantenendo tutti i parametri la lente e quant'altro sempre in continuità quando si va a riattivare la fotocamera rapidamente funzioni in realtà anche nella unica funzione secondo me utile che questa dell'esposizione non è così comodo non è così comodo perché devo ogni volta risvegliarlo andare a compensare che poi soprattutto ragazzi la cosa che non è comoda è proprio lo scatto cioè questo tasto è posizionato secondo me male sia per l'orizzontale sarà che ho le mani grosse non lo so ma è proprio un centimetro più a sinistra del dovuto e sia per il verticale non ne parliamo proprio ma poi anche proprio il feedback rispetto a ciò che mi aspetto da un tasto di scatto di una fotocamera ma anche di alcuni smartphone che hanno adottato questa cosa e sulla scocca così tipo sony e con il grip tipo il 14 ultra è veramente scomodo è veramente lento è veramente troppo duro non c'è una doppia corsa ma un brutto ritorno diciamo che per un tasto che si chiama camera control per l'appunto siamo un po in alto mare e poi proprio anche perché il dito fa fatica ad arrivare il fatto che sia anche progettato male a livello di corsa secondo me con una corsa troppo breve allo stesso tempo però troppo dura lo rende quasi inutilizzabile cioè scattare con questo coso vi rallenta paradossalmente non abbiamo quella quella con l'upgrade in più a livello di ergonomia e quell'avvicinamento al mondo delle fotocamere neanche il cambio ottiche non mi fa impazzire poi non posso levare da due perché è fake devo passarci per forza quindi non mi fa impazzire che il fatto che devo ogni volta riattivarlo e poi fare insomma non lo so mi ripeto mi rallenta un po tutta l'esperienza di utilizzo di iphone che invece è bella proprio perché è tutta a portata le misure sono perfette cambio camera colpisco con l'altra mano ho l'esposizione a portata inoltre tenendo premuto non sono riuscito a trovare il modo di far partire la raffica cosa che sarebbe comoda ma devo continuare a farla con il tasto volume giù quindi c'è anche un po una dispersione di funzioni legate a questi tasti fisici che personalmente non mi fa proprio impazzire una novità secondo me importante su iphone quest'anno invece è quella del sensore 50 megapixel con shutter lag 0 il principale ed è una roba che non esiste sugli altri smartphone non esiste è l'unico per ora a farlo 48 megapixel arrivano anche sull'ultra grande angolare ora sapete che per me sono inutili 48 megapixel vediamo come si comporta qui sul 16 sul principale secondo me saranno buoni risultati e sul grande angolo dove secondo me sarà un mezzo disastro ma vediamo che cosa ci dicono gli scatti riguardo il confronto 14 ultra ovviamente abbiamo una lente in più che per me è fondamentale qui perché è un teleobiettivo 75 mm di altissimo livello mentre su iphone abbiamo una scelta che ho odiato l'anno scorso sul pro max odio il fatto che quest'anno sia l'unica scelta possibile ovvero il passaggio da 24 mm a 120 mm con le 5 per una roba abbastanza assurda detto ciò innanzitutto attivazione rapida della fotocamera che troppi tasti iphone che è molto più immediata sullo show me doppio clic e mi ritrovo nell'ultima modalità l'ultima lente gli ultimi parametri impostati e funziona sempre divinamente da schermata di blocco da schermo nero e quant'altro e invece su iphone abbiamo visto appunto ecco adesso neanche sta funzionando eccolo qui il doppio tocco sul control camera che di control camera molto poco eccoci in modalità gopro 12 megapixel velocità di scatto a parità di scenario è leggermente più veloce lo show me però secondo me sono in entrambi su un ottimo livello vediamo invece invece se passiamo ai 50 megapixel su entrambi sensore principale hanno un ritmo diverso però se la giocano come cadenza allora piede destro avanti vediamo che ci siamo piede destro avanti destro avanti destro avanti vediamo infatti su iphone abbiamo destro avanti su sinistro scusate ok tutto a posto sullo show me abbiamo il momento leggermente dopo vedete anche il signore più vicino siamo con 50 megapixel su entrambi sinistro avanti su show me il momento leggermente dopo sinistro avanti e su show me destro avanti quindi direi che abbiamo già fatto il test che ci serviva per appurare che lo shutter lag a 0 a 50 megapixel sul sensore principale effettivamente c'è quindi ottimo ottimo lavoro di apple altra cosa importante da non sottovalutare è che qui scattiamo sempre in apple pro raw che al di là maledetto questo tasto che lo disattivo che al di là del fatto che a me non faccia impazzire la possibilità di la non possibilità anzi di impostare il raw normale non l'apple pro raw e quindi di base allo scatto raw in hdr complica le cose abbiamo visto solitamente a livello di rapidità del curatore e shutter lag quindi altro merito oltre ad avere i 50 megapixel alla di zero ce li ha in apple pro raw il grosso vantaggio dello show me è che possiamo scattare in ultra raw e allo stesso tempo in 50 megapixel sul sensore principale e allo stesso tempo soprattutto regolarci noi parametri non siamo schiavi di un automatismo completo e totale ma possiamo comunque andare a lavorare in modalità però anche con l'ultra raw eccoci qua 50 contro 50 e poi proprio ultra raw è più veloce iphone quindi una prova di forza non da poco del processore di iphone del lavoro che va a fare su questi sensori che rendono tutto più reattivo se portiamo diciamo all'estremo tutte le funzioni possibili e quindi megapixel e raw in hdr una cosa che lui ancora fa anche se io ho attivato tutti i toggle del caso ad esempio se percepisce una macro passa automaticamente alla 1 per croppata vedete che c'è un leggero il cambio ottica non so se si vede dalla copro male questo perché io poi il toggle della macro in realtà l'ho disattivato l'ho disattivato come potete vedere quindi c'è sempre un po di automatismi suoi incluso il problema legato al fatto che con poca luce disattiva il teleobiettivo quando vuole lui e ti utilizza la 1 per croppata con poca luce e ragazzi eccoci rientrati in studio vi dico allora iphone smuove sempre un po i mondi le opinioni eccetera e questi raw avranno delle robe abbastanza clamorose seguite il video fino alla fine ascoltate bene anche le considerazioni finali prima di mettervi a fare domande e considerazioni nei commenti io rispondo sempre molto volentieri ma a volte mi accorgo che palesemente mi fate delle domande delle considerazioni senza aver visto tutto il video comunque i momenti più importanti del video perché spesso nel video che commentate c'è la risposta che cercate quindi in questo caso più che mai guardatevelo fino alla fine io come sempre intanto vi ricordo che questo video è stato possibile grazie a nando 75 che ormai mi sostiene praticamente in tutte le mie opere qui su youtube lui mi ha fornito questo iphone lui è il punto di riferimento sul roma ma anche su tutto il territorio nazionale se cercate uno smartphone nuovo o usato da più classici tipo appunto di iphone a quei modelli un po più di nicchia che magari faticano ad arrivare sul territorio europeo sono un po introvabili e quant'altro da lui trovate tutto nando un appassionato come noi ho ricevuto un sacco di feedback positivi da persone che si sono affidate a lui e quindi mi raccomando phone hero negozio fisico su roma se siete qui nei paraggi altrimenti telegram canale in descrizione primo link date un'occhiata se siete in cerca di uno smartphone nuovo o usato perché farete la scelta giusta ne approfitto per ricordarvi anche come sempre che sul mio sito www.vincenziodecaro.com trovate le nuove lat pensate appositamente per iphone apple log e shomi shomi log il nuovo pack cinematic è disponibile trovate un video dedicato che vi spiega tutto vi spiega perché questo pack è una enorme evoluzione rispetto a quello dell'anno scorso tra l'altro sia quello dell'anno scorso che quest'ultimo li trovate scontati solo fino al 25 dicembre rattaccia un po di tempo ma vi raccomando approfittatene e poi come sempre vi invito a seguire il canale qui parliamo di fotografia da smartphone ma parliamo anche di direzione della fotografia sto cercando di portare questi due estremi questi due mondi così distanti sempre di più sul canale per ora parliamo tanto di smartphone ma piano piano cerco di portarvi anche sui nostri set cinematografici detto ciò buttiamoci su lightroom iphone 16 però confrontata con un show 14 ultra vediamo che succede iniziamo con questa che trovo abbastanza emblematica io vi metto ragazzi sempre xiaomi 14 ultra a sinistra e iphone 16 pro a destra se ci sono eccezioni ve lo sottolineo ma comunque vedete qui in chiaro iphone 16 pro tra parentesi con tutte le specifiche di scatto questa immagine secondo me è molto emblematica che cosa notate ve la lascio due secondi 12 se non avete notato nulla adesso io vado a scaricare a spegnere il profilo apple pro ro che ovviamente lightroom riconosce e capirete che il problema è che nello scatto di iphone problema per chi è un problema per me è un problema per altri magari no sostanzialmente non esiste l'atmosfera reale di quello scatto quindi il taglio di luce la parte in ombra così com'è nella realtà viene totalmente appiattita dal profilo apple pro ora questo è un caso un po estremo non lo fa sempre in maniera così estrema comprendo che possa essere una direzione utile per alcuni utile anche per alcuni professionisti forse immaginiamo a me è una roba che non piace perché a schermo non riesco a fermi conto realmente di quello che sto facendo è come se avessi veramente un filtro pesantissimo applicato sopra e a capire in che direzione spingermi come lavorare e quant'altro andiamo avanti partiamo con la 5x vi metto sempre xiaomi a sinistra iphone a destra come potete vedere qui la resa è molto più simile su uno scenario che non presenta un contrasto così gigantesco la presenza dell'apple pro si sente molto molto meno andiamo a zoomare e a vedere il dettaglio di questa lente su un campo non semplicissimo un campo che definirei quasi lungo quindi non semplice per un teleobiettivo così lungo in termini focali su smartphone e mi viene da dire che quello di xiaomi risulta tanto più morbido quanto più dettagliato in realtà quanto meno da questo scatto poi vedremo nei prossimi lo vedo soprattutto nei nel micro dettaglio lo vedo nelle texture un po più piccoline che è facile che si impastino su questi sensori eccetera come appunto la pianta qui dietro come ad esempio la scritta qui dietro notiamo anche il sensore più grosso il diaframma leggermente più spinto e quindi uno sfocato leggermente maggiore sullo xiaomi il punto di messa a fuoco per entrambi sono queste tre ragazze sullo sfondo e nel complesso io ho apprezzato tanto l'anno scorso la 5 per di iphone 15 pro questa è la stessa pro max questa è la stessa identica continuo ad apprezzarla diciamo che quella dello xiaomi è proprio sono proprio i punti forti dello xiaomi che viene fuori quella quell'eccesso tecnico hardware che che su cui punta lo xiaomi 14 ultra e quindi una resa che secondo me nel complesso è migliore però quella di iphone mi piace lavora bene è assolutamente accettabile per la fascia in cui si propone di essere iphone andiamo sull'ultra wide qui vediamo l'apple pro raw intervenire in maniera abbastanza violenta ci come sappiamo va a portare un file che ha già tutti i recuperi del caso attivi quindi portato al massimo non abbiamo margini di recupero fa tutto fa tutto lui se lo vado a disattivare ovviamente la resa si va un po più ad allineare a quella di xiaomi è molto molto buono in realtà il raw nudo e crudo di per sé e andiamo a vedere il dettaglio siamo sui 12 megapixel con entrambi magari tiro un po su il file di xiaomi e capiamo che cosa succede nel dettaglio di questo sensore secondario che su iphone ragazzi devo dire lavora per essere un ultra wide molto bene ovviamente il livello è abbastanza basso su entrambi poi se andiamo a paragonarlo con i principali l'ultra wide è la lente su cui gli smartphone soffrono di più ma guardate quanto rumore ad esempio in questo caso lo xiaomi nonostante lavora 50 iso probabilmente bisognava applicarsi un attimino in fase di scatto tirare su esporre a destra tanto le alte luci xiaomi te recuperano molto bene quant'altro probabilmente se ci si lavora sopra si ottiene qualcosa di buono ma in questo caso specifico punta e scatta i due file tirati fuori sono questi e secondo me iphone la spunta insomma perché il dettaglio è molto buono in questo paragone l'immagine è estremamente pulita e non ha toppato minimamente insomma tutto ciò che è la lettura dell'esposizione delle varie zone dell'immagine quindi ottimo lavoro di iphone sull'ultra grandangolare congelamento del soggetto fanno molto bene tutte e due adesso vi porto una serie di esempi scusate ragazzi un piccolo inserto audio qui perché ho sbagliato l'analisi non mi sono reso conto di un paio di cose qui vi raccontavo di come entrambi i dispositivi in realtà siano da praticamente 9 su 10 nel congelamento dei soggetti più affidabili sul mercato mi viene da dire addirittura alla pari qui il problema in questo scatto non è stato il congelamento dello scenario come potete vedere infatti i tempi di esposizione sono identici su entrambi un millesimo in questo caso bensì lo Xiaomi ha avuto un problema di messa a fuoco è in questo che è leggermente meno reattivo effettivamente dell'iphone quello che si nota anche qui è un po quello che vi ho detto prima ovvero intanto qui forse riesce a congelare meglio lo scenario Xiaomi ma poi la lente è proprio più tagliente pur rimanendo morbida e non essendoci nessun contributo elettronico che vada a creare artefatti o cose strane che non ci piacciono notiamo come qui l'iphone un po tra il micromosso un po perché la lente non è a livello di quello dello Xiaomi si perde e nel dettaglio e nell'anche proprio la gestione dell'immagine che ha degli strani artefatti in questo scenario un po un po difficile se vogliamo abbastanza netta la differenza ad esempio sui soggetti nello nello sfondo che sono proprio le cose più complicate da catturare per lenti su sensori di questo tipo quindi sul teleobiettivo confermo un bel passo avanti lo Xiaomi Xiaomi a 50 megapixel iPhone a 50 megapixel devo dire abbastanza comparabili lavorano molto bene entrambi lo Xiaomi si mantiene su una resa che secondo me è leggermente più morbida che mi piace molto ma non saprei decretare un vincitore su questo scenario in particolare sulla questione risoluzione li gestiscono entrambi molto bene quindi resa comparabile per curiosità metto lo Xiaomi a 12 per farvi vedere come la differenza non sia così abissale a riconferma del fatto che abbiamo già visto nei confronti con altri smartphone come il vivo un sensore più grande e una lente soprattutto la lente fa tantissimo ragazzi nel sistema ottico in virtù del risultato finale migliore comunque possono andare a compensare sono molto più importanti per il dettaglio il micro dettaglio rispetto alla mera risoluzione che infatti riguarda un'altra cosa che è la grandezza dell'immagine altri discorsi non non direttamente legati al dettaglio quella è un po' una conseguenza un discorso che magari affrontiamo in un in un video a parte passaggio di un soggetto sotto camera in questo caso Xiaomi congela meglio l'attimo rispetto ad iPhone che ha un micromosso che rende lo scatto sostanzialmente inutilizzabile ripeto è un po' un turn all'otto toppano quell'una due volte per uno in maniera veramente random su scenari magari difficili e quant'altro e poi io vado veramente con un punto e scatta molto brutale oltretutto li provo assieme quindi ci sono tante varianti però ormai sono anni che confronto la serie ultra con la serie pro diciamo di iPhone e più o meno vi dico che si sono livellati tanto sotto questo punto di vista nella lettura dei scenari e congelamento del soggetto altro 50 versus 12 di iPhone scontro interno iPhone a sinistra iPhone a destra 50 megapixel a sinistra 12 megapixel a destra ultra wide quindi vediamo questi 50 megapixel sul sensore secondario e come abbiamo visto per il pixel come abbiamo visto per tutti gli smartphone che supportano i 50 sui sensori secondari la differenza è davvero minima perché l'hardware regge così poco botta tutti questi megapixel tra sensore e lente che non non arrivano nell'immagine quasi è veramente veramente irrisoria la differenza e alle volte vi faccio vedere nel prossimo esempio addirittura va a danneggiare il nostro risultato anzi ve lo faccio vedere subito perché ho provato a riproporre la stessa cosa qui sempre 50 a sinistra e 12 a destra sempre iPhone contro iPhone e guardate allora vi faccio vedere andando a croppare come la 50 megapixel sia intanto molto più morbida se vogliamo anche pulita in qualche modo e ok sono entrambe ovviamente immagini da non croppare ragazzi le ultra wide su smartphone ma quello che vi voglio far vedere la quantità di artefatti enorme presente sulla ultra wide da 50 megapixel che si va a creare tra i vari problemi che tutta questa densità del sensore può creare c'è anche questo mentre la 12 è molto molto più pulita sotto il punto di vista degli artefatti ok esempio un po clamoroso sulla 5x legato al profilo Apple Pro Raw e alla superiorità della lente del sensore dello Xiaomi e sostanzialmente abbiamo da una parte la realtà grosso modo da aggiustare da sistemare quello che vi pare dall'altra parte abbiamo una patina un appiattimento generale di dettaglio e di contrasto veramente brutto se posso dire veramente brutto e poi non lo so spremere al massimo il file e ok appunto è il momento in cui lo voglio pronto all'uso non so che senso ha nel momento in cui sto scattando in raw perché non lo so chi scatta in raw per poi pubblicare il raw così come e non lavorarlo penso nessuno ma guardate quanto soffre la lente sui sottotoni quanto non riesca a immagazzinare dettaglio quanto sia questa roba da sembra veramente tipo la playstation 4 contro la playstation 2 e manca proprio il dettaglio non ce la fa non ce la fa e insomma impasta un po tutto quindi su queste piccole cose che poi in realtà nella fotografia che vado ad elaborare quando ho bisogno di spremere davvero il file tirare fuori determinate robe sono cose gigantesche esce fuori la differenza enorme tra un buon hardware e un hardware discreto quindi il software può fare un miracolo fino a un certo punto molto in superficie e per chi si ferma di base alla superficie qui ho provato a sovraesporre ho provato a sovraesporre volutamente su entrambi di uno stop allora che cosa succede ecco ad esempio questo è uno scenario abbastanza difficile su iphone io ho il file come sappiamo spremuto quasi al massimo avendo sovraesposto ho un margine di recupero che è questo e adesso provo a esasperare per capire cosa succede lo faccio anche su xiaomi datemi un secondo allora a sinistra xiaomi e a destra iphone ho scattato a 50 a 12 vabbè non è questo il focus e la bontà dei file sul sensore principale emerge in entrambi i casi guardate avendo esasperato un po i file questa era una zona sottoesposta come il sensore principale abbia tante informazioni tanto dettaglio riesca appunto immagazzinare tantissima roba entrambe le immagini sono abbastanza pulite insomma c'è tantissimo margine di lavoro su entrambe sono quasi comparabili in questo caso sempre guardate una leggera aberrazione cromatica in più dello show me su questo devono lavorarci guardate anche sui gradini qua dietro rimarchiamo questa cosa in favore di iphone e anche sulla gamma dinamica sappiamo perché l'abbiamo visto in altri casi che quella diciamo è veramente pazzesca possiamo fare dei recuperi assurdi ma in questo caso ad esempio sono sono abbastanza abbastanza comparabili direi probabilmente sullo show me mi posso spingere un po oltre vediamo adesso abbassiamo un attimo iphone abbassiamo un attimo lo show me ecco guardate su show me esce veramente il mondo ragazzi i due file esasperati guardate ad esempio nel caso delle alte luci del cielo che erano da entrambe le parti bruciate come veramente su show me ragazzi abbiamo cioè una roba io non sono mai andato in difficoltà su uno scatto sbagliato nel recupero su lightroom con la serie ultra di show me ma in realtà anche con la pro e anche con un po tutte le altre questa qui più che altro per valutare un po lo sfocato a parità di distanza sensore principale tra l'altro 12 megapixel 50 megapixel vi risottolineo come l'hardware riesca a regalarci un dettaglio addirittura apparentemente superiore più piacevole rispetto a un sovraccarico di megapixel e lo sfocato ovviamente leggermente maggiore sullo show me ma insomma siamo su un livello simile secondo me più che altro sullo show me è un po più di rotondità un po più di carattere o un altro esempio qui che vi riporto ora sempre lente principale e vi lascio giudicare insomma è un po più marcato il bocchè sullo show me ma anche un po più presente e allo stesso tempo morbido non troppo impastato non troppo chiaro non troppo vivido vedete come si perde l'immagine secondo me in maniera piacevole e i punti luce abbiamo proprio una bella forma non so come dirvi anche una bella trama quindi mi piace molto il bocchè delle lenti di show me ne approfitto per farvi vedere ancora una volta come 12 megapixel di show me ma con un hardware superiore livello di lente di sensore portino più dettaglio comunque pari dettaglio rispetto ai 50 megapixel di iphone ve lo rimarco ancora una volta insomma siamo siamo veramente lì altro caso di congelamento soggetto show me a sinistra iphone a destra per risottolinearvi come sotto questo punto di vista sono comunque al di là di 9 su 10 8 su 10 sono i due camera fondi riferimento cioè per la street sotto questo punto di vista nel punto e scatta così brutale sono veramente impeccabili impeccabili entrambi bene direi che ci siamo ci siamo visti un bel po di robine ci sono tanti pro tanti pro e contro tanti vantaggi da una parte tanti svantaggi dall'altra ma qual è il dunque il dunque è che secondo me iphone non va criticato di anno in anno ogni volta per il fatto che non porta delle novità incredibili non porta delle innovazioni hardware no non porta queste robe qua perché non è ciò su cui punta apple non è neanche ciò che mi aspetto da apple tant'è che quando lo fa tipo questi tasti funzioni un po improvvisati e un po che non esistono sugli altri modelli sostanzialmente lo ripeto adesso meno scherzosamente lo fa male l'ha fatto male diciamolo quando invece lavora sull'ottimizzazione su delle cose specifiche legate o al mondo del pro o al mondo degli utenti consumer dell'utente medio e non fa dei pastrocchi non cerca di accontentare tutti riesce ad ottenere questa azienda dei risultati pazzeschi che rendono iphone uno smartphone incredibilmente affidabile che ti permette di lavorare incredibilmente bene a livello di feeling di tranquillità durante la sessione di scatto che ti dà la garanzia di comunque vada a portarti a casa qualcosa che funziona che si può aggiustare che è utilizzabile 9 su 10 questo è ma che ha delle limitazioni che diciamo ti fanno in qualche modo rosicare perché su un telefono pro dove di quella scritta pro ha fatto un mantra perché veramente ci hanno ficcato dentro roba da super pro specialmente lato video poi avere delle mancanze grosse enormi perché un teleobiettivo con una focale decente è una mancanza enorme perché comunque gli smartphone che hanno un hardware più pompato vuoi o non vuoi nell'utilizzo pro riescono a farti portare a casa risultati migliori alle volte molto migliori in gli scenari alle lavorazioni che dobbiamo fare vuoi perché non c'è una modalità pro che alle volte può essere comunque abbastanza fastidioso perché il fatto che il software sia così tanto invasivo per quanto funzioni bene comunque io lo trovo una rottura a volte può essere pericolosa abbiamo visto può essere un hardware a doppio taglio può farci portare a casa un risultato che non è quello che volevamo quindi tutta una serie di cose che secondo me devono un po' rivedere l'esperienza di scatto è molto buona se me la vuoi migliorare vuoi farmi fare quel passo in più e mettermi un tasto dedicato alla camera santa miseria fallo bene perché hai il mondo dei professionisti addosso tutti pendono dalle labbra di apple nessuno considera la concorrenza questo è veramente un peccato perché temo veramente un appiattimento prima o poi di questo settore di questa fascia di smartphone speriamo di no perché in questi anni mi sono potuto divertire e tirare fuori soddisfazioni enormi proprio grazie a dei mezzi che hanno osato di più tipo la serie ultra di show me e ho fatto robe che con l'iphone non avrei potuto fare lo dico molto chiaramente ma tornando a noi ecco hai tutto il mondo dei pro addosso caspita non mi puoi toppare una novità del genere e me l'hai toppata sia lato software che lato hardware tra l'altro quindi sono un po di robe che non lo so mi fanno riflettere e mi rendono molto curioso come avevo già predetto rispetto a ciò che succederà con iphone 17 perché mi aspetto finalmente un allineamento lato hardware con una quarta lente mi aspetto finalmente un 60 70 80 millimetri decente di apple non vedo l'ora di vederlo perché secondo me c'è un potenziale per fare grandissime cose visto come lavorano e come hanno lavorato ad esempio sulla 5 e soprattutto un po' di affinamenti dovuti a comunque qualche batossa che è arrivata perché questo camera control di base ho visto che a molti professionisti effettivamente non è piaciuto e quindi è stato un po inevitabile criticarlo e anche corretto quindi se mi chiedete a me quale preferisci tra i due vi dico non c'è una vera risposta per il mio utilizzo per quello che faccio per i reportage che faccio per il fatto che ho proprio scelto di non uscire più con la camera al collo ma di affidarmi solo allo smartphone per gli scatti stili scatti fotografici ovviamente sciamo il 14 per tutta la vita con il kit perché ricerco proprio quell'esperienza lì il più estrema possibile nell'ottica dello smartphone anche del camera phone anche del camera phone per il professionista utilizzato come mezzo che in maniera valida può sostituire la camera in certi momenti e quant'altro è una lotta perché poi sappiamo che iphone si porta dietro tutto un ecosistema un equilibrio una serie di cose che per i professionisti lavorano tanto oltre che una parte video ragazzi che per ora inarrivabile quindi a voi le conclusioni vi lascio come sempre spazio nei commenti come sempre vi risponderò risponderò a tutti spero che abbiate visto tutto il video fino a queste conclusioni finali e non vi siate fermati allo sfottone iniziale e detto ciò per questo video è tutto noi ci vediamo alla prossima e buon weekend per me venerdì per voi è lunedì vabbè buona settimana